240.000 ore di servizio che hanno consentito di identificare 60.000 persone e controllare 30.000 mezzi. 11.300 i reati perseguiti per un totale di 369 arresti e 700 denunce. Cifre che solo parzialmente testimoniano l'operato dell'arma dei carabinieri in provincia di Bolzano. Attività che si articola anche in svariati comparti, tutti molto importanti e spesso, per così dire, meno visibili. Si pensi al controllo delle piste di sci che in questo periodo è di particolare attività e al servizio di analisi degli stupefacenti presso il laboratorio specializzato che ha sede all'Aives. Oggi è stato tracciato un bilancio di quanto fatto, ma si è anche ovviamente parlato della sicurezza pubblica percepita dai cittadini come un problema in parte testimoniato anche da alcune cifre. Nel 2014 i carabinieri sono stati denunciati circa 6.300 furti di vario genere, il 7% in più rispetto all'anno precedente. Per i vertici dell'arma la microcriminalità non è però radicata in Alto Adige. Si tratterebbe invece di un fenomeno, per così dire, di passaggio. L'unico dato sensibile che rileva un numero in rosso è un leggero aumento dei furti, un aumento che può essere attestato attorno al 7%, che per ora da parte nostra registra una efficace attività di contrasto improntata prevalentemente sulla contestazione di reati associativi nei confronti di figure criminali che non sono stanziali sul territorio ma sono prevalentemente di passaggio. In sintesi, per quanto concerne i crimini, l'Alto Adige rimane certamente a livelli meno preoccupanti rispetto a molte altre zone d'Italia. Non può più però essere considerata un'isola felice ed è un dato al quale bisognerà abituarsi. Il nostro mondo sta un po' cambiando, ecco perché quindi quello che deve aumentare è questo tipo di consapevolezza su una realtà criminale di passaggio, su una criminalità flessibile, su una criminalità che va ad incidere sul patrimonio della persona. Ecco perché ciascuno deve riuscire ad adottare in primo luogo delle misure proprie di autotutela e poi incentivare l'impiego di tecnologia per installare sistemi di allarme collegati per dire a 112.